Si trova presso la polizia di frontiera del porto della Spezia per gli accertamenti del caso. I tre giovani stranieri che sono stati trovati questa mattina, poco dopo mezzogiorno, in un portellone della stiva di una nave porta-container. La nave, battente bandiera di Antigua, era salpata tre giorni fa dal porto di Casablanca in Marocco e dopo aver attraversato il Mediterraneo è arrivata oggi al molo Fornelli. Ma nelle operazioni di sbarco dei contenitori gli addetti hanno sentito dei rumori provenire da una zona alta della stiva. I tre, che hanno dichiarato di essere algerini ma non avevano documenti con loro, stanno bene anche se presentavano sintomi di disidratazione. Sono in corso i controlli per individuare con certezza la loro identità. Per liberarli dal nascondiglio che si erano trovati sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il portellone si trova infatti in una zona molto in alto nella stiva. Non è la prima volta che il porto della Spezia è teatro di sbarchi di persone che fuggono per diversi motivi dall'altra sponda del Mediterraneo. Adesso gli accertamenti chiariranno la provenienza dei giovani, ma attraverso l'incrocio delle banche dati internazionali verrà definita meglio la loro posizione.